ecco il link al mio canale twitch e alla mia pagina instagram per seguire gli aggiornamenti e sa la cardio qua allora bisogna pedalare se ci fanno pedalare prendo il cuoricino che sta succedendo prendo il cuoricino non c'è tanto pulito è appunto questa batteria famo una cosa aspettatini bello fermo bravissimo così almeno il mio poltergast andrà ancora più veloce questo proprio fanno niente vuoi un po di ritmo mamma mia il ritmo poi guarda ecco come si faceva vai massima potenza sono i soldi sono i soldi vai con questa vado con questa non c'è anche l'altra questa già meglio facci lei con questa qua doppia potenza no devi buttare l'aria butta 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 l'aria bro butta l'aria e pedala scala quei grassi che hai nel corpo ah vediamo qua giù che c'è o tapirulano fermo vai sfida di tapirulano soldi banane è pure la chiave senza volerlo vai c'è l'altro tapirulano prova te aspetta facciamo una sfida aspetta 3 2 scherzato anche io devi continuare a scherzare in avanti non mollare le gomme luigi ammazzate hai visto che dieta che stai facendo perché 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 come si dice dici le bugie ai tuoi preparatori atletici ma dove tu dici che stai dimagrendo invece continua a mangiare come una bestia bravo si fa così compito compito dopo so io che fa l'uso del doping per dimagrire chi chi moneta pezzo della cosa che non si sa pallone della molten o come cacchio si chiama del pallavolo anzi no adesso ha ragno ah bravo dove è andato adesso eccolo qua facci lei mira infallibile occhio di falco gomme luigi aspetta mi sposto un attimo no spostati un po qua se non vedi lo vediamo qua se ce la fa al primo colpo ambe vabbè nuova zona ecco con la chiave e qua si fa un po di yoga yoga e hai mai provato a fare yoga no basta non parlo più ah ah hai visto hai visto hai visto cosa 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 così guarda guarda oh ma se faccio cosi noi dovremmo fare eserciti sul tappeto tu devi mettere giù il tappeto altrimenti noi non riuscire a fare c'è qualche sequenza? non lo so magari mo vediamo a fare tutto con con i tappeti giù che guarda eh oh perché ritornano che magari dobbiamo fare quelle sequenze eh vedi che si sposta ah tira giù questo volevo dire tira giù questo no no devi guarda questo qui ah ho capito ciucci ok poi e qui sopra questo invece ciucciato questo qua sopra voilà mamma mia che bestie aiuto ce l'abbiamo fatto siamo dei maghi della come si chiama? del punk rock degli enigmi bravissimo però qua guarda oddio perché hai fatto il doppio? il triplo aiuto e l'ho vista brutta un'altra chiave oh yeah ma perché ah c'è bagnato eh perché c'è bagnato aiuto qua facciamo moltissima attenzione perché siamo proprio come si dice al primo piano no? come si evinse da qua non posso uscire eh aspetta come fai ad uscire se c'è l'acqua imbecillo secondo me però c'è anche da fare il giro oh oh dio qua son venuto però dopo non c'è più niente perfetto abbiamo trovato la chiave ma magari qua dietro c'è qualcos'altro soldi grandi soldoni oh 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 adesso si che puoi uscire i gommi Luigi vabbè tanto abbiamo fatto quindi stigiamo hai soldi lasci qui aiuto ti ho preso mamma mia quanto mi sta da antipatico questo qua viola cioè vedete tira dosso gli altri oddio ce n'è uno dietro gigante eh perché bisogna beccarli quando sono visibili nel coso mamma mia becca questo avvicinatevi nani che vi distruggo pure io secondo me qua dietro e volevi nasconderti te con le tue chiappone occhio gommi Luigi che ti arriva addosso è facile prendiamo le monetine oh yes nuova porta e nuova chiave comunque in termini di sicurezza sono all'avanguardia con tutte queste chiave almeno quello non so oh mio dio quanto siamo un po' sporcaccioni qui ma tu non è che puoi fare tanto qui esatto sono già sparito ma no che devo fare occhio a non cadere nell'acqua io faccio fuori tutte le cose ma qui almeno col cacchio che si asciugano aspetta devo tirarla la manovella si è peggiorato ah vai 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 l'ho chiusa l'ho fatto giusto aspetta questa l'ho chiusa devo chiusare pure questa voilà aia aspetta perché questo ha tirato la tendina chiudi per piacere che non si vede niente col coso e adesso ve faccio vedere io brutti sporcaccioni lo so cosa stavate facendo qui non ho visto acciuccia 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 e io top ne manca ancora uno se non mi fa ecco dietro di lei brutti parzi che fate di questo come fiufi e la madò ancora un po' di gente no e vedi questi qua che fanno le orde sotto le rocce e ne ho presi lì insieme mamma mia no buono però io voglio quelli viola purtroppo mi danno fastidio top tutti basta di uno no tutti e due insieme cerca questo e ne manca ancora uno dove sei finito brutto cagliocco bravissimo ci c'ho io ci c'ho te ci penso mi ti scappa e scappa ancora una volta no distrutto oh 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 yeah adesso devi cadere nella grata per forza si petta 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 calma calma che ci sono gli accappatoi voglio prendere l'accappatoio guarda com'è facile prendere l'accappatoio una facilità extrema non lo so cadra dentro gli accappatoi si però anche i soldi però adesso prima di tutto mi devi prendere quel bel salmone affumicato dorato ciucci 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 allora muovi qualcosa là perfetto e voilà acqua bella calda no un po' più sparisce l'acqua muo prigalo para mi sa tanto che devi anche cadere là sotto perché c'è la zemma come hai visto puoi cadere no però cadi a destra eh ah no vai dentro lì ah riesci di lì perfetto vai sotto vai a destra tac tac così prendiamo una nuova zemma la numero tre tre ma chup chup get away e mo vieni su e vado avanti io ok come hai fatto oh oh boo oh 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 boo oh oh ok abbiamo capito ci dobbiamo muovere velocemente ci dobbiamo nascondere mazza che mira però pia un pallone farbone però dobbiamo capire anche cosa bisogna fare io e giuccio tutte le cose che cammino col cacchio ah il cagnolino ecco il cagnolino si ha guidato la via no dobbiamo sparare là aspetta però mi serve un pallone pallone vieni qua ho capito ah devi passare fa il giro della grata che tu puoi e dopo vai là e sposti il pollo l'ho preso vai con me Luigi fa il giro bravissimo una volta che l'avevo intercettato io intanto come si dice lì quello che facciamo lo distrago ecco non mi veniva il termine tecnico vai 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 corri 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 tira via l'acqua su ciao schiaccia no butta l'aria bravo 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 che manca poco vai ma che mancava poco 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 vai adesso è il momento giusto per vincibacco porca la miseria ce la fai ce la fai don't worry che la fai giù vai ah c'è sui occhialini eh tirai una palla addosso vai no tira la palla dopo ci c'è basta vieni giù anche te non posso che non puoi devi fare te che non puoi eh non posso non va giù puoi andare da te non so se è soltato te vai ciuccia 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 vai abbaglia ciuccia caro il mio amico sei finito voilà l'uomo muscoloso se ne va con stile esatto mi tocca far tutto a mia per tutto a mia tutto a mia scusa eh c'è paura venire giù in piscina ma il merito è mio ma dove ci c'è anche io basta che mi nascondevo adesso l'ho preso io tiè il numero 14 allora era bug questo era bug ahio oddio e mo come ah si no ahia perchè me vuoi far male ciappa qua c'è la cosa che vado vai 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 sulla scaletta tu non puoi salire sulla scaletta io posso fare così però io sono qui vedi era questa zona incredibile abbiamo finito pure la palestra e vai oddio no salvami il vostro linguaccione maledetto distruzione tutto qui tutto qui mamma mia che faticaccia questo qua oh vediamo di non passare in mezzo perchè altrimenti dopo facciamo una brutta fine e andremo adesso al piano 14 quale è secondo te il piano 14 quattordici quale è sala pesa ancora ancora perchè non ce n'è mai abbastanza esatto secondo me potrebbe essere una discoteca non c'è ancora stata una sala disco 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 teca 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 do ancora la miccia babba mia che fastidio e che fa e la miccia adesso passa attraverso bisogna rincorrerla attraverso dei sì bloccala ahah ecco guarda un po' vabbè adesso bisogna rincorrerla perché continuerà a scappare con la maledetta nooo ritornami dentro maledetto con mi luigi ah non posso entrare schiaccia tasti brutto il baccarospo ma va va che ci ha bloccato di nuovo boll